Svolti in Svezia nel 2005 in Coppa Europa ha vinto alla staffetta 4% ed inoltre tra 600 ma naturalmente partecipate Buona giornata a tutti e un buon divertimento Ancora un applauso naturalmente a Manuela che poi andremo a coinvolgere naturalmente durante l'arco della festa anche perché il Presidente mi dice la famosa la spinta possibile e immaginabile che possono andare a un buon e due ricordi. Grazie a tutti. 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 E con l'occasione salutiamo anche gli amici dell'associazione PASO, chirurgia pediatrica di Padua, bambini un po' più sfortunati che i nostri che non possono mai essere qui con noi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.